Oggi giocheremo di nuovo, dopo un po' di tempo, un pochino, perché abbiamo giocato anche l'altra volta, a Fox Racing Italia. Ora mettiamo su questa. Ho una nuova macchina, ho la voluta per questa macchina. È bellissima, mi fumo molto. Che bella visuale da capire. Richard, Schumacher, Magnus. Oh my god! Primo. Subito, primo, così. No, dai ragazzi, sto scherzando. Ok, stavolta non l'ho deciso io, eh. E tu chi, ok? Va bene, dica tu chi, ok. Ok, ottavo. Sette. Oh mio dio! Questo cavolo! Su seconda, va bene? Sì, su seconda. Perchè stannisci? Oh mio dio! È specificità stannisciata! E questa è... UUGLE che non è stato… Einaomes1, però la presentazione è stato… Faceit ancora sempre svolto! ASE SE GO A bollire! io quanto no boiato ci sono molto boiato c'era tutto qui a tutto questo c'è difficile oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio è vero oh mio dio 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 sto rindendo oh oh ho preso incredibile l'ho preso oh mio dio 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 ma perché non l'ho tracciato no no non l'ho preso oh mio dio sul secondo no il c'è dove hai il c'è dove hai dove hai il c'è dove hai il c'è dove hai il c'è oh mio dio togliti oh cosa è successo super incidente Quarto No No porca me Super incidente Porca me Adesso è impossibile E' un'altra posizione C'è lì 100% Basicamente impossibile Allora adesso io Ecco L'ho superato Terzo Ho finito Terzo Non pensavo Oh 25 anni Perfetto Scendiamo 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 Gambe e tagli Ecco Ci bastava la gambe Si inizia con la potenza Ma di opera Che bello E' bellissimo Oh mio Dio E' impossibile 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 Che giove anche Quindi Oh Baiato Mi ho scivolato la macchina Oh Perché Mi scivola la macchina Devo sapere la stessa Scivola proprio Scivola Impossibile E ho le guette Che l'ho fatta apposta Però Oh mio L'ho preso in piedi Mi sto superato Oh mio Dio Oh mio Dio Testa Testa Cos'è successo Questa collisione Collisione Crisica Oh mio Dio Cos'è successo Porca No Non doveva succedere Dai che scendiamo Il Jordan Premium Non mi ricordo Di non mai Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Mustalla Mi fa finta Tanto Tanto Oh mio Dio L'ho toccato Gli ho toccato anche la gomma E poi ho dietro E poi ho dietro E poi ho dietro Sì E poi ho dietro Meglio Meglio stare Incredibile Incredibile C'è incredibile C'è super incredibile Adesso 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 a Bottas davanti attenzione si sono toccati incredibile incredibile colpo di scena toccati di pochissimo beh ma adesso è lontano è lontano ma non tocca adesso mi sa che io non tocca se continui così si mi sa che io infatti è già diventato un po' dove è che ce l'ho faccio? dove è che ce l'ho faccio? ieri diori 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 ecco chi am tu am tu yogurt lo che ti vedo lo che ti vedo ecco visto che poco di pochissimo stavate qui là dai dai eccolo e là 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 dai 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 eccolo 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 due su tre secondo incredibile colpo di scena è più vicino 17-19 di due secondi 17-19 di due secondi nooo che cazzo nooo non può andare non può andare dai vabbè secondo è più vicino è più vicino è più vicino è più vicino ecco eccolo l'ho visto è là però adesso posso finire tanto sono arrivato comunque secondo che cazzo ok secondo però non di troppo vediamo che vince devo vince grazie dai il diciannovesimo no non mi puoi fare questo tanto è facile ma tutti sono lì agli impati ammassati certo sono ammazzati ammassati ok ragazzi doi 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 sì però così così l'eclet oh mio dio no 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 dove è stato no che cavolo ho fatto vediamo che buona c'è 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 eccolo dai io ho il sesto dai che non è il tocco di qui c'è sì che io sono chiudere c'è perfetto ok 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 sto aggiungendo perfetto devo tornare all'estero qua l'ultimo sì guarda l'ultimo oh mio dio però difficilissimo a non è facile facendo che però è vicino che sono un frottino bella fortuna ma cos'è il giro con il mio dettaglio adesso per il giro 2-3 posso trovare il zoro non è tanto da oggi però è veloce questo è vero come faccio sono 7 non riesco niente a sperare il quinto è un botte semplice in segno non lo ha da cosa è altamente, se lo fa non è meglio oh mio dio, 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 lo sto agendo, oh mio dio è l'ultimo giro non mi piace l'avevo quasi paiosa di niente di niente stai facendo lo stesso giro dai dai non posso così non devo morire in tecato che stai usando un attimo ragazzi ok ragazzi facciamo un intimo gli altri sono andati in totale dai speriamo di questo guarda bene dai 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 schifo che sei brutto brutto oh ma tieni ma mi è capitata che mi pare no non mi fuggi giù non mi sa va bruttati oh oh ma qualcuno ha posti super veloce z oh ma cos'è porca cos'è no 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 no!! vai perferro cala da um perlha pescini ciao un giorno oh il carino cosa è successo scavalcato lo scavalcato oh mio dio decimo, nono ecco, eccolo 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 peso adesso adesso mettalo ottavo 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 oh mio dio troppo veloce tantanamente aiuto eccolo qui vedo la tua vita sempre che non lo so la tua la tua è cioè di ma io oh mio dio sempre convivendo vai vai è proprio pietà dooo incredibile incredibile dai quarto 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 ma qui dopo ok ragazzi per questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao